Burro di nonno mai vista in vita tua? Per fortuna c'è nuovo Prealpi. Queste donne al nord, cioè per me, sono troppo indomabili. La rivoluzione delle vallette. Le donne dichiarano guerra ai maschi della fattoria. È iniziata la grande sfida tra due squadre. Vallette contro contadini veri. Siamo freni di fare contadino, non di farsi pigiappè per le mere di fondè. Il pubblico sovrano vota da casa. Pietro Taricone, presidente della giuria. Ed Ancorsana e Snella sole a danzarri in tra di quelli che ebbe compagni delle tartubella. Con Barbara D'Urso, 1, 2, 3, Stalla. Mercoledì alle 21.10 su Canale 5. 1600. Nasce la candela. 1879. Nasce la lampadina. 1985. Nasce la lampadina a risparmio energetico, che però dà luce piena, piano piano. 2007. Nasce Immediately Beghelli, che invece dà luce piena immediatamente e vi fa risparmiare fino all'80% di energia. Immediately Beghelli. Immediato è il risparmio sulla bolletta, immediata è la luce piena. Dino, dammi un crudino. Subito. Io preferisco Victoria. Oh, bravo. Meglio una prima sincera. Più che una prima. Mi pare una nedromarcia. Crudino l'analcolico biondo fa impazzire il mondo. Passa a Geox. Geox, la scarpa che respira. Crudino l'analcolico biondo fa impazzire il mondo. Suzuki Gran Vitara. Nuova generazione. Wow! Mi fai impazzire! Così mi piace! Immagina un dentifricio che ti faccia urlare di gusto. Nuova Zeta Complete Expressions. Nei suoi irresistibili gusti Citrus Breeze, Extreme Green, Exotic Energy. È meraviglia! Te ne sei accorto, eh? Nuova Zeta Complete Expressions. A Zeta. Un sorriso bello e sano da A alla Zeta. Con la promozione Dental Days, Oral-B e A Zeta ricaricano il tuo sorriso. Stargate attivato. Stargate SG-1 DVD Odyssey. La serie TV amata in tutto il mondo arriva in DVD. Stargate SG-1 DVD Odyssey. Il primo DVD è in edicola, soli 4,99 euro. Cosa sarebbero le nostre case se non ci fossero i prodotti Foppa Pedretti? Foppa Pedretti. Da più di 60 anni nelle case degli italiani. La sicurezza Volvo compie 80 anni e ti regala la tecnologia del futuro. Festeggia con la nuova Volvo C30. Oggi da 18.500 euro. Festeggia con Volvo. Sabato 14 e domenica 15. Prendi Stella, madre quasi perfetta. Aggiungi Giulio, marito affarista. In più c'è Betta, figlia 15enne. Il risultato è una famiglia felice. Ma se la dividi per banca rotta. Un mandato d'arresto per suo marito, Giulio Foglini. Moltiplicala per Eleonora, la mamma di Stella. Le mie bambine! E la vita prende una piega inaspettata. Mia madre è un pericolo pubblico. Amanda Sandrelli e Stefania Sandrelli. Io e mamma. Regia di Andrea Barzini. Da martedì 17 aprile su Canale 5. Viasat. Sicurezza per te e per la tua auto. E la vita prende una piega inaspettata. 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 Grazie.